Lo sportello amianto della sede ANMIL, associazione nazionale dei lavoratori mutilati e invalidi del lavoro di via Puccini a Pistoia, si trasforma da sportello amianto a sportello per la tutela delle sostanze cancerogene con un addetto presente in certi giorni ed orari. Da sportello amianto lo sportello diventa uno sportello per la tutela da tutte le malattie professionali, quindi da rischio chimico, biologico e fisico e sarà aperto dalla prossima settimana con delle cadenze che poi diremo in seguito. Chi si occuperà dello sportello è qui accanto a me e si chiama Franco Bono che fa parte della commissione ANMIL. Quindi ci saranno degli orari specifici? Sì, ci saranno degli orari specifici ma non è tutto, lo sportello è la prima fase, faremo assemblee e riunioni su tutto il territorio pistoiese proprio in funzione di questa novità. Un cambiamento che gradualmente riguarderà anche tutte le altre sezioni ANMIL della regione toscana. Questa è un'eccellenza che vorremmo che si espandesse in tutta la Toscana perché la Toscana è all'avanguardia su questo settore qui e con questo sportello noi daremo possibilità a tutti i malati che vanno incontro a una malattia professionale di avere una risposta, un accompagnamento vero e proprio per uno screening, è questo che noi vogliamo. La regione toscana ci ha fornito tutti i dati per tipologia delle malattie professionali e quindi con questo e con l'aiuto dell'INAI che finalmente hanno buttato fuori un manuale per definire tutte le sostanze ancerogene, infatti oggi se ne riconosce all'incirca il 50% da quelle denunciate e quelle poi veramente accolte dall'INAI. Grazie.